Una partita di pallone, vieni! Ma che vuoi? Luce, luce! Siamo una partita di pallone, vieni! No, più in là, diciamo! Vieni, ci stai! Fabio, tu ci stai e io ci farò! Ma io ci stai veramente, no! Che danno veca frutificante destro! Vieni, posso giocare solo quando tu tu tu? Ah! Perché devo urulo, stiamo dicendo! Perché che stiamo dicendo urulo? Perché posso giocare tu perché devo terziu dentro! Ma io farei anche di gioco, che cosa c'è! A livello della catturiale! E' tutto! E' tutto! E' tutto! E' tutto! E' una partita di pallone! 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 No, hai, no! No, tu lo massimo! No, tu lo massimo! No, allora, gioco pure la fele! Però, vai, gioco le ore! Che ti ha fatto cambiare, no! Però, in una settimana, no! Perchè, in una settimana! Che resti in una settimana? Ehi, scusate! Ehi, scusate! E' anche i trippi tu! Sì, sì, dai! Da di nuovo! You, come ti chiedi! E' una partita di pallone! È un'altra partita di pallone! E' la partita di pallone! Questa è una partita di pallone! Lucio, famiglia del libro, dall'altro lato, che è? Ma che mi? Mi taglio un glasso, ma non stai con me! Mi taglio un glasso, a fare l'ingegnere perché gli ingegneri sono? Ma che fa un fermo tu? Lucio, ingegnere! Lucio, difendici! Lucio difendi la categoria! Ma che sa tra gli architetti come sono? No! Bellissimi! Viva gli architetti! Viva gli architetti! No, lui! Viva la fila, non so! Eeeh... Viva gli architetti! Pagate le tasse! Che lavoro fai? Viva gli architetti! Non ho capito, Raffaele! Viva! Viva la fila! Viva la fila! Guil spi! Viva la fila! Viva la fila! No, l'ho presa! è lì mi guardi ma lei non ha 11 anni perchè ha il picchietto? sorella stanno 30 secondi vuoi dire qualche altra cosa? a questo prossimo compleato Paolo Paolo! Sì ci va a qualche parola grazie